Se non è Cusano potrebbe essere l'avvocato Paolo Graziano a guidare la coalizione di centrodestra alternativa al sindaco uscente. Lega, Nuovo PSI e Fratelli d'Italia starebbero ragionando su questo nome per la candidatura da sindaco e non senza tensioni. L'incontro pubblico che il primo cittadino uscente, Gamba Corta, ha tenuto domenica avrebbe fatto emergere qualche debolezza nella coalizione avversaria. Qualcuno parla anche di defezioni o di ritorni. Sa di fatto che la compagine starebbe rivedendo le sue strategie. L'incognita principale resta Forza Italia con gli attriti fra la coppia Mastella-Lonardo che vorrebbe sul tricolle un candidato di fiducia e il coordinatore provinciale del Partito Azzurro e Deputato Cosimo Sibilia. Nel centro-sinistra arianese l'alleanza tra Partito Democratico, Partito Socialista e Sinistra si stringe ancora di più sul nome del giovane avvocato Enrico Franza, un candidato sindaco proveniente dalle fila dei socialisti, distanza a Roma ma pronto ad un impegno locale. Si lavorerebbe all'unità con due liste sicure, forse una terza con esponenti delle associazioni cittadine. E il Movimento 5 Stelle? Stesse dinamiche di Avellino, perché alla lista ufficiale, prossima ad essere consegnata la piattaforma Rousseau con l'utilizzo del simbolo, con 16 candidati consiglieri e il candidato sindaco individuato nell'avvocato Mario Iorio, ci sarebbe almeno un'altra lista di supporto. Anche tra i pentastellati esisterebbero delle divergenze di vedute. C'è più di qualche indiscrezione su una formazione di dissidenti che vorrebbero far parte della competizione elettorale, probabilmente in solitaria.